Parole ti fai male e ti metto sulle strade a viaggiare Come un comune fendolare Su e giù per lo stivale Cinismo Ho fatto il racconto a questo ricorso E di notte lavoro Pesimo le immagini comologiche Se allena il giorno su La Cream One La Cream One, color crema La Cream One ragazzi provate a scriverlo Il nostro amico Antonio si è sentato un attimo Voleva dei video quindi tra poco lo vedrete Sulla resistenza.it Forse lui E abbiamo il primo da mettere fuori Francesco se lo doveva fare Danilo Ma ha fatto sempre non vederli Ok quello è tutto pronto Questa forse è troppo Al monitoraggio dei segnali della batteria L'elettronica ci sta bambando Andiamo Cominciamo Attenzione Philip Cominciamo Allora Damiana vediamo là sotto se c'è il segnale Cassa Brulante scusa Allora ragazzi siamo in studio Per dirla semplice Non ho aspettato tanto che L'asvolta 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 Resi Studio Mobile Danilo Candida Si va a registrazione della bozza della batteria La resistenza l'ha svolta Per l'attimo Allora Grazie a tutti.